Si chiama Fred James, è un uomo americano, statunitense, che ha deciso di stravolgere quasi completamente la sua vita. In che senso vi starete chiedendo? Nel senso che ha deciso di trasferirsi in Oriente, precisamente in Thailandia, questo magnifico paese ubicato nell'estremo Oriente, in Asia. Non da solo, ovviamente, con l'amata moglie, ma anche con il suo simpatico amato cane. L'uomo ha fatto sapere, io qui mi sento veramente al sicuro, la vita infatti rispetto agli Stati Uniti d'America è molto meno stressante ed è al tempo stesso una vita molto più economica. All'inizio il suo piano era quello di andare in Ecuador, quindi in America Latina, America Sud, dopo la pensione, ma con l'aumento della violenza del paese ha deciso di cambiare strategia e di andare a vivere in Thailandia, nell'estremo Oriente, in Asia. Va bene? È stata una scelta importante, radicale e profonda, che l'uomo ha deciso di compiere senza se, senza ma e senza difficoltà di sorta. All'inizio non era del tutto convinto, poi anche la moglie lo ha convinto e ha deciso che quel seme che all'inizio aveva nel suo cervello diventasse un albero da frutto, come effettivamente parlando è diventato. L'idea è diventata reale e autentica. Ha messo su radici e l'uomo l'ha attuata. Bene, copento con qua Fred, il video termina qua. Una buona giornata a voi.